the voice of climbers cari ascoltatori ma soprattutto care ascoltatrici e a tutti voi spettatori che ormai ci seguite anche sul nostro canale youtube mi ritrovate a questo appuntamento di voice of climbers io sono pandi e come sempre ho il piacere di introdurvi una voce ma anche un volto proprio grazie a queste novità che ormai ci vedono presenti anche di come si dice via video quindi salutiamo tutti quanti se vi piace questo modo di seguire i nostri appuntamenti ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e soprattutto di condividere i nostri video in modo che almeno i vostri beniamini riceveranno sempre maggior attenzione chi è l'ospite di oggi e chi ha visto il titolo già lo sa e per cui direi che non aspettiamo molto ad introdurlo il nuovo campione italiano boulder nicolò sartirana nick benvenuto su climbing radio grazie marco per la presentazione sono felice di essere qua anche io sono felice di poterti intervistare come campione italiano boulder perché quando ho detto ragazzi ha vinto nicolò sartirana devo dire la verità tanti mi hanno detto ma chi è ma chi è ma chi è perché chi magari non segue il circuito negli ultimi anni diciamo specialmente da dopo il covid in cui ti abbiamo visto pian piano scalare le classifiche arrivare sui podi fino al primo posto è una figura che magari non è così nota per chi magari segue tante le imprese su roccia non abbiamo visto grandi pubblicazioni fino fino ad ora però io nicolò l'ho conosciuto proprio mentre scalava su roccia una vacanza che si stava facendo in molise credo otto anni fa circa una roba di questo genere climbing radio era lì con climbing radio on tour per l'evento organizzato appunto dagli amici lì a frosolone e in mezzo a tutto questo gruppo diciamo di adulti c'era un ragazzino perché lo eri ancora in quegli anni assolutamente che però già raccontava dei tiri che aveva consumato in falesia e quindi dimostrava di avere grande passione per per questa arrampicata da lì in poi ovviamente grazie ai climbers triugio tanta agonistica che ti ha portato davvero come dicevamo negli ultimi anni specialmente diciamo per farla in breve dal 22 a oggi quindi questo anno e mezzo davvero strepitoso con il primo podio in Coppa Italia lead anche se tu sei campione boulder ti sei fatto di sicuro anche in vista della combinata olimpica di tutte queste cose hai mantenuto un grandissimo livello anche sulla lead e quindi hai iniziato a dire guardate che sono forte anche sulla lead e poi la scalata direi proprio ai podi del di Coppa Italia e poi quest'anno addirittura del campionato italiano boulder questa disciplina che sembra ti piaccia di più almeno così per chi magari non ti conosce personalmente ma ti vede un po un po in gara è così è così nicolò diciamo che la mia carriera è iniziata con la lead fin da piccolino niente solo concentrato su su quell'aspetto e man mano che crescevo come atleta mi sono spostato verso il boulder infatti le mie prime Coppa Italia erano sempre lead pensavo che era quella diciamo la mia strada però in realtà io come ragazzo sono sempre stato abbastanza esplosivo potente quindi sotto sotto sapevo che che forse a livello di performance potevo dare di più molto sul boulder e quindi ho iniziato a concentrarmi sul boulder e diciamo che il mio limite all'inizio era l'altezza io ero fino a qualche anno fa ero veramente piccolo quindi fattivo molto questa cosa io mi ricordo che andavo in gara e una delle mie prime Coppa Italia c'era questo blocco con quattro punti di partenza ed ero talmente piccolo che non riuscivo a fare quindi diciamo che iniziata molto traumatizzante come esperienza però poi vabbè crescendo comunque potevo effettivamente dare e quindi mi sono spostato dalla lead al boulder e anche perché mi diverte molto di più il boulder quindi praticamente ora sono più un boulderista che uno che fa lead però comunque la lead mi piace soprattutto per quanto riguarda l'arrampicata è un po' più rilassata riesci veramente a godertela due discipline diverse con aspetti positivi entrambi quindi ti vedremo anche in gara nel circuito di Coppa Italia lead quando partirà o a questo punto ti concentrerai esclusivamente sul boulder per appuntamenti eventualmente internazionali e al momento visto che mi hanno dato la bellissima notizia che andrò a fare la Coppa del mondo a Salt Lake diciamo che all'inizio l'idea era ok non so ancora come sarà il calendario internazionale quindi mi tengo qualche tappa di lead di Coppa Italia però adesso che ho questi appuntamenti così importanti ho deciso che voglio veramente concentrarmi solamente sul boulder affinare diciamo tutte quelle skill che poi nel boulder sono veramente tante quindi ho bisogno di tanto tempo e quindi tutte le mie forze vanno lì adesso senti tornando proprio alla tua diciamo carriera recente agonistica nel per quanto riguarda il circuito di Coppa Italia boulder ti avevo visto a secondo posto addirittura nelle in tre tappe consecutive e terzo posto nella quarta l'anno scorso che cos'è mancato l'anno scorso cioè per non arrivare al gradino più alto che cosa che cosa quale è stata la differenza che hai messo in campo quest'anno è molto semplice avevo paura di vince che detta così sembra strano però effettivamente magari le capacità fisiche ce le avevo ma comunque in gara molta gente forte e tutti magari più di me sono magari capaci a gestire le emozioni meglio e quello che mi mancava l'anno scorso è che comunque ci sto lavorando adesso non dico di essere migliorato di essere al top però decisamente ho notato un miglioramento è l'aspetto mentale soprattutto come l'atteggiamento in gara nei diversi round capire ciò che magari certe emozioni è meglio lasciarle da parte altre invece ti aiutano per andare avanti magari quando un movimento è duro e pensi di non farcela puoi utilizzare degli input per veramente esprimere il 100% di te stesso. Nelle ultime gare quelle in cui non sei arrivato primo diciamo nella classifica assoluta quindi nella finale però avevamo già visto vincere delle semifinali è più importante come hai detto tu si devono gestire un po' i vari turni essere forte e vincere una semifinale non sempre pone nella condizione giusta per fare una finale altrettanto di livello è così. esatto io diciamo che la posizione nei round precedenti di qualifica e semifinale cerco di non guardarli neanche l'obiettivo è arrivare a round successivo e poi la performance a zera e da lì si riparte l'obiettivo è arrivare in finale con più pelle possibile cercando di non sprecare energie quindi magari preservarsi un po' in semifinale è questo gioco tattico per arrivare magari un po' più fresco rispetto agli altri e poi in semifinale in finale dove è la performance diciamo più importante dove ti porta effettivamente a vincere e lì si dà tutto per tutto e poi chiaramente la posizione determina un po' lo stato d'animo finale però in generale io non osservo troppo ok sono arrivato prima in semifinale quindi mi abbatto no anzi cerco di non pensarci poi chiaramente fa piacere vedere ok sto bene nella forma soprattutto invece in questa in quest'ultimo campionato italiano la semifinale te la sei proprio agguantata per per entrare in finale diciamo durante la semifinale ti sei guadagnato il posto per la finale proprio lottando fino alla fine e invece ci hai regalato una finale perché per chi l'ha vista davvero entusiasmante tra i tentativi sul primo blocco 12 sul secondo con boulder chiuso io ho misurato 15 secondi ci hai messo per chiudere quando uno dice quanto ci si mette chiudere un blocco ma 15 secondi basta guardare cosa ha fatto nick sul secondo blocco da quando è partita quando l'ha chiuso 15 secondi esatti terzo e quarto blocco addirittura flash allora il primo era un bello strapiombino di forza giusto quindi mi sembrava il modo giusto per per scaldarsi secondo coordinativo aveva un sacco di di tentativi e ci devi lavorare io oppure ti avevo visto un po nelle palestre di milano mi sembrava che sul coordinativo ho detto guarda il giovane ormai come ha imparato a muoversi a saltellare da una presa all'altra c'è diciamo che i coordinativi sono un po il mio pane quotidiano io sono un atleta molto esplosivo e per quanto riguarda le coordinazioni sono molto bravo però chiaramente in gara le coordinazioni cambiano sempre e magari il piccolo dettaglio può fare veramente la differenza e in particolare in quella coordinazione lì un piccolo dettaglio mi diciamo mi allontanava da fare quel primo movimento e quindi all'inizio dei tentativi proprio non ci pensavo quella cosa poi man mano che lo lavoravo ho capito meglio il movimento e l'ho fatto questo per dire anche se magari uno stile può essere anche il proprio c'è sempre quel dettaglio che magari ti sfugge soprattutto in un contesto di gara dove c'è la pressione c'è le aspettative e tutte queste cose qui quindi l'importante comunque è fare il blocco senti per uno esplosivo come te però non è un problema la placca abbiamo visto diciamo che è sempre stato un po il mio problema la placca però ne ho preso atto e ci sto lavorando veramente tanto faccio placca tutti i giorni quindi sono contento di vedere del miglioramento poi in realtà in placca le emozioni vengono amplificate quindi se sei agitato è più facile cadere più facile perdere l'equilibrio e la concentrazione in quel contesto lì ero veramente concentrato comunque le capacità in placca ce le ho perché per arrivare al finale devi averle e sono contento perché vuol dire che la mia mente era posta in quel momento assolutamente come ti abbiamo visto scalare sembrava proprio il tuo momento infatti lo è stato perché addirittura poi come abbiamo detto gli ultimi due blocchi flash per il tuo stile qual è quello che indipendentemente da tentativi o riuscite ti è piaciuto hai detto che bello sono contento di essermelo proprio scalato guarda come ho indovinato immediatamente la sequenza o come finalmente ho indovinato la sequenza vabbè chiaramente è il secondo blocco di finale però più per tutto il contesto la diciamo la gente che esultava poi quando ho fatto il top all'ultimo è stata un'esperienza bellissima poi una botta di adrenalina ci stavo bene e poi chiaramente l'ultimo blocco dove la vittoria è stata confermata perché a questo punto nessuno poteva più strapparti il titolo conquistato ante termine della gara stessa davvero bravo davvero complimenti ci hai già anticipato questa convocazione per Salt Lake City quindi una grande emozione senti tu sei forse l'unico degli atleti categoria maschile non professionista che sarà convocato per questa per questa tappa sì è giusto sbaglio non lo sai eh sì esatto cioè al momento non sono in nessun gruppo sportivo poi chiaramente l'obiettivo è di rendere questa mia passione un lavoro quindi il tempo magari sistemerà le cose non lo so vedremo le opportunità ovviamente per entrare nei corpi atletici dipendono dai risultati che uno colleziona quindi diciamo sei sulla buona strada in questa direzione però dal numero di volumi che si vedono alle tue spalle da come purtroppo non siamo riusciti ad incontrarci in studio ma lo faremo sicuramente poi presto in cui anche le immagini dell'ospite arriveranno meglio ai nostri spettatori nel frattempo stai studiando che cosa stai studiando di bello? e al momento sono al secondo anno di ingegneria civile al Politecnico di Milano e sì è bella tosta diciamo che ho scelto un percorso di studi non così semplice però sono disposto a portarlo a termine anche perché le materie comunque mi interessano sono sempre stato incline alla matematica, alla fisica, mi piace materie che si usano anche arrampicando esatto, io vedo molto soprattutto nella fisica l'arrampicata certe volte mi viene da immaginare le forze come agiscono sul mio corpo queste robe qui è bello, è importante, aumenta la consapevolezza e poi magari permette di far fare al cervello delle cose che se no istintivamente non farebbe quindi alternando agli studi un sacco di allenamento quale sarà il tuo allenamento per Salt Lake City? e al momento tutta la parte di forza e quindi di condizionamento se così si può dire l'ho già fatto nella preparazione invernale adesso mi sto concentrando solo sulla qualità quindi cercare di imparare più movimenti possibili, più skill possibile cercare di capire più o meno quali sono i pattern motori che si troveranno a Salt Lake e cercare di riprodurli qui in Italia per arrivare il più preparato possibile quindi girare tante palestre, andare in Francia, sperimentare stili diversi e poi allenarsi al centro federale e in Big World dove tracciano praticamente ogni settimana blocchi bellissimi quindi questo è quello che faccio adesso un'ottima opportunità senti, chi ti segue come allenatore in questo percorso? e mi segue mio padre però funziona molto bene devo dire di sì, era il tuo accompagnatore e allenatore otto anni fa quando ci siamo incontrati a Frosolone e non ne ha mai mollato a dire il vero quando ci siamo incontrati mi allenava Diego Sirtori e diciamo che tutta la parte da bambino mi ha seguito lui mi ha creato tutta questa base motoria fisica soprattutto quindi sono molto contento del lavoro che ho fatto con lui però poi ho diciamo un po' preso consapevolezza e con mio padre mi trovo molto bene perché diciamo un po' più libera come cosa cioè un po' più di confronto e funziona molto bene bene, è un buon esempio perché abbiamo visto tipo la Stasia Gheo che è allenata da suo padre fin da sempre è arrivato ad altissimi livelli anche nel boulder mondiale femminile quindi esempi di questo genere ce ne sono speriamo che il tuo sia altrettanto vincente noi ti ringraziamo per questi minuti che ci hai dedicato e ovviamente ti invitiamo a passare qua e lasciare la tua firma da campione sul nostro divano appena sarà possibile grazie ancora Nick certo grazie grazie a voi ciao ciao e ci saluta in maniera molto 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 rapida Nick perché ci ha veramente regalato questo appuntamento che volevamo dare successivamente all'intervista fatta con Camilla Moroni che ovviamente potete andare a rivedere o riascoltare a secondo della modalità con cui preferite seguirci lei campionessa italiana lei già per quarta volta consecutiva invece Niccolò una bella novità qui su Climby Radio a Voice of Climbers che siamo sicuri tornerà presto io vi saluto quindi appuntamento alla prossima settimana ciao The Voice of Climbers